Ciao ragazzi, è un video a spesa, ho comprato una tovagna nuova di adesivo, la saponetta, non so se qualcuno ha mai provato, e i panni, bene, ciao! No, vabbè ragazze, è proposto, a parte scherzi, non so se qualcuno di voi ha mai provato questa saponetta qua, che c'è scritto che smacchia praticamente, rimuove molte macchie come olio di cottura, olio di insalata, trucco, rossetto, sangue, sporco, succoletti, polsini, grasso, e molti altri, non so se qualcuno ha mai provato, proviamo ecco, prima volta che ho visto questa cosa qua, ecco, se qualcuno ha provato, scrivetemi come vi siete trovate, proverò anch'io, no vabbè ragazze, oggi vorrei pulire qualcosina in cucina, voglio pulire sopra i mobili, devo cambiare anche i giornali sopra, perché di solito tengo i giornali sopra, e niente, poi devo anche spazzare qua, perché c'è pieno di zucchero, perché stamattina ho rovesciato un po' di zucchero qua, devo lavare i piatti, e altro ancora, per prima cosa metto a spazzare, perché non ce la faccio, quando sento zucchero sotto, non ce la faccio proprio, devo pulire prima, devo spazzare, e poi handla, per prima cosa metto a spazzare, perché non ce la faccio, perché non ce la faccio, perché non ce la faccio, Grazie a tutti. Poi devo svoltare anche la vostra elia. Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. Grazie a tutti. 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 proviamo. un po' di aceto. un po' di aceto. di aceto. un po' di aceto. anche di aceto. un po' di aceto. Grazie a tutti Vedete che aprono un po' la finestra perché non ci fa problema Qua ci vuole la mascherina Grazie a tutti 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 Grazie a tutti